Ciao a tutti amici, siccome ormai i miei followers sono... Vengono detta campana? Siccome i miei followers ormai comprendono tutta Italia Ma cosa è qui con tutta Italia? Tutto il mondo! Quando parlo in dialetto trentino, molti di voi mi chiedono Gwenda, ma che cazzo stai a dire? Quindi oggi mi è venuto in mente di fare un corso di recupero per i non trentini Benvenuti a... Trentinizzati con Gwenda! Ma non è che titolo? Ah, gnocami coi titoli, altro che... Che sono le donne dal culbaz? Che cosa vuol dire questa frase? Non mi lasciare, no, no, no! No, no! Sto dicendo a buttare l'immondizia, però non mi porto le chiavi, mi apri tu? Ah, da chi allora? Chissà che stampa che gli usa? Ci metto due minuti, il tempo di scendere, buttare e tornare su Ah, da chi ha due minuti? Magari sono morto? No, capiate, che hai da morire poco in questi due minuti, chi che goda tra l'via l'umido? Oh, non prego dottore, sto male La miglior medicina? L'aspettare che il passa Bene, per la consultazione ti guarda euro Vado un attimo a struccarmi e mettermi qualcosa di più comodo Aspettami qui, preghete, che te la verso come un mobile dell'IKEA Eccomi, amore Madonna, te sei brutta come l'altra fama! Ma io ti amo Game over Pensavate fosse finito? Quando mai finisco un video senza salutarvi? Ci vediamo nel prossimo video Baci G! A presto! A presto!